ed ecco fabrizio che sta dormendo in piedi incredibile Fabrizio vorrei fare un saluto alla telecamera agli amici di facebook di youtube guardate in che condizioni guardate un po' questo furgone insomma cos'è questa furgone qua mamma mia ha da dire qualcosa agli amici Fabrizio non ha da dire niente vuoi fare un saluto ciao